Doveva essere il big match di giornata e lo è stato, almeno in parte. Tra Taranto e Casarano finisce 0 a 0 ai punti, avrebbe meritato qualcosa di più la formazione rosso-blu. Ionici che partono senza Sant'Arpia dal primo minuto, dal primo minuto viene inserito invece di Abì. Taranto 4-4-2 ma subito passerà al 4-2-3-1. 3-5-2 per il Casarano di Nevio Orlanti con Favetta dal primo minuto ma sarà un Casarano abbastanza spuntato in avanti che non riuscirà a concludere in porta. Al quinto Favetta in aria, prova a girarsi, viene contrastato al momento della conclusione. Al diciassettesimo esce Guaita, se l'ha fatto male un paio di minuti prima per un contatto e nella caduta un problema alla spalla sinistra dentro l'ex Versienti. Al diciannovesimo manata di Rodriguez su Rizzo. L'arbitro vede ma estrae soltanto il cartellino giallo proteste da parte del Taranto. Ventiduesimo tentativo di Longhi, palla campanile e poi c'è una carica sul portiere Cekoschi. Ma il Taranto comincia a carburare soprattutto a diventare pericoloso. Al ventiseiesimo cross di Boccia dalla destra palla precisa all'interno dell'area piccola. C'è Diaz che non ci crede e l'azione spuma. Trentaduesimo punizione di Marsili. Pitarresi si allunga nell'angolino in basso alla sinistra ed è via in corner. Con lo striscione forza ragazzi cariche. Passiamo ad una ripresa avara di emozioni ma il Taranto l'occasione per vincerla. Al terzo Falcone riesce a recuperare il pallone su un errore di Pagliai. in copertura. Cross per Tissone che però tira centrale su Pitarresi. Era un rigore in movimento. Al quinto gol anulato al Taranto. Cross diversi enti. Siata la bandierina del guardaline. Inutile il colpo di testa di Falcone che aveva messo in rete. Protesta a Montervino che viene espulso. Poi ci sono i cambi e le ammunizioni ma da raccontare non c'è più nulla. finisce 0-0 tra Taranto e Casarano. Alla fine ne esce un Taranto rafforzato mentre invece il Casarano deve riflettere sulla prestazione offerta allo Iacovone anche se ha due recuperi e il Taranto soltanto uno e la distanza in classifica è di soli due punti a favore del Taranto.